No, no, no! Pronto! Lei non può andare! Ma cos'è? Adesso ti fai sentire! Eh? Dove cazzo sei finito? Senti... Scusa... Scusa? Ma che diavolo vuol dire? Sì, un attimo, solo un attimo. Dobbiamo assolutamente vederci. Ok. Hanno massacrato Dana, sono qui in ospedale. Arrivo, prendo un taxi. Come sta tuo fratello? Puoi immaginare. Non è messo granché. C'è su Nadia adesso con lui. Allora, Peter, che sta succedendo? Ti hanno minacciato? No. No? E allora com'è che non ti facevi trovare? La verità è che mi vergognavo di guardarti in faccia da quando ho saputo che non avevi preso i soldi. Che cosa cazzo stai dicendo? Tu hai preso dei soldi? Sì. Sì? E quando è successo? Prima o dopo che sono venuto a trovarti in ospedale? Dopo, vero? Prima che quelli venissero da me. come diavolo hai fatto a prendere quei soldi? È così che funziona. Fai un accordo molto semplice. Prendi i soldi e in cambio tieni la bocca chiusa. che cazzo l'ho fatto per te, Aram? Quegli stronzi minacciavano te! Prima della sparatoria volevi parlarmi di qualcosa. Di cosa? Volevo dirti quello che provavo, che provo per te. E volevo sapere se anche tu per me provavi la stessa cosa. Poi là dietro, sì, è successo quello che è successo. Quelli ci sono andati giù pesante con gli insulti, capisci? Dietro il locale, dico. Cioè? Che dicevano? Parlavano di te e di me. Ma... E... Che cosa provi? Aspettate. Vete! Ma... Cioè? Grazie a tutti